Poche novità nel contesto meteo, sempre interessato da un campo anticiclonico ben strutturato sul bacino del Mediterraneo, che dà luogo alle belle giornate. Provisioni del tempo per venerdì 1 luglio 2016. Cielo sereno, poco nuvoloso su coste e pianure. Qualche annuvolamento in sviluppo sulle zone interne montuose darà luogo a qualche isolato temporale. Temperature 27-35 gradi sul Gargano, Tavolire e Foggiano 24-33 gradi sul Salento, Bat, Barise e Tarantino. 20 deboli di direzione variabile, mari poco mossi sia all'Adriatico che all'Ionio.